E c'è ovviamente preoccupazione tra i gestori di alberghi e ristoranti. A Roma Matteo Parlato è andato a vedere, vediamo. Ecco, siamo a Piazza del Colosseo. Ora immaginate di poter riempire il monumento di acqua fino all'orlo. Bene, la quantità non vi basterebbe a dissetare per un giorno questa città, ma oggi la notizia è che qui a Roma, per la prima volta dopo tanti anni, ci potrebbe essere un'interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile. Noi abbiamo parlato con alcuni albergatori, con alcuni ristoratori, per capire se questa novità li preoccupa. Sentiamo quello che ci hanno detto. Qualche cliente ci ha chiesto se c'era la possibilità che l'acqua veniva a mancare nei prossimi giorni. Questo perché hanno letto da giornali e sentito da organi di informazione della mancanza d'acqua. E' un facile allarmismo, cioè i giornali scrivono che forse l'acqua verrà a mancare nei prossimi giorni, quindi prima di venire a soggiornare a Roma ci chiedono se c'è ancora questa eventualità, ma noi non sappiamo nulla, no? Non avete fatto delle riserve? Le riserve ci sto pensando, vediamo, possiamo fare qualche cosa. Però fare la riserva, secondo me, dal mio punto di vista, è dannoso, perché poi tutti fanno la riserva e finisce prima l'acqua. L'interruzione del servizio dell'erogazione dell'acqua potabile è sicuramente una novità. L'emergenza un po' meno. A maggio scorso Acea aveva informato i sindici, gli amministratori di Roma e dei comuni limitrofi, i comuni che sono serviti dal gestore, che c'erano delle criticità nell'erogazione del servizio dell'acqua potabile. E fra i vari documenti che aveva presentato c'era anche questa piccola mappa che è anche sul sito internet. Ecco, qui vedete, le zone in giallo sono quelle dove, secondo Acea, era possibile un calo di pressione nell'erogazione dell'acqua, invece quelle in rossa era dove era possibile un'interruzione dell'erogazione proprio. Questa mappa, questi documenti, sono stati consegnati il 23 maggio 2017, prima, certamente, dell'interruzione della captazione dell'acqua dal lago di Bracciano. però, certamente, i segnali che c'era una situazione critica già c'erano. Dal Colosseo, per il momento, è tutto. Linea allo studio.